Ciao, oggi vi proponiamo un lavoretto molto carino, Renna con pacchetti. Per questo lavoro abbiamo bisogno di carta da regalo, ritagli di eva, bianco, carta, lembra marrona, un po' di tappi, taglierino, cartone, occhi, secchetta di gelato, capanella, perlina, nastro, piocchi, tolla. Incoliamo le quattro zampette sul tappo più grande, dopodiché andiamo col collo, incoliamo il tappo a mo' di testa. E ora è il turno delle orecchie, prima un quarto di fetta di tappo e poi un'altra, e via. Coloriamo il tutto e nel frattempo facciamo i pacchetti, pieghiamo le strisce di cartone a mo' di pacchetto e semplicemente con la carta da regalo che più ci piace o che abbiamo, facciamo i pacchettini. Una volta finiti attacchiamo i fiocchetti. Dopo aver montato la reina attacchiamola sul piattino con la colla. Dopodiché o con l'aceto al vinil o con la vinavil attaccate tutti i pezzetti di gomma eva che vi avanzano, assolutamente senza nessuna precisione. Via col nastrino decorativo in fondo. E in ultimo i pacchetti, dove più ci piace. Se ci piace possiamo disegnare la bocca sotto il naso di Rudolf. Ti è piaciuto? Metti un like. Ti trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Vinterrestri, TikTok e iscriviti ai nostri canali.